Non è facile, non è facile Gini, non è facile Nicolò e non è facile la partita. 20-25 minuti di grandissima qualità, di grandissima intensità, dove si poteva chiudere la partita, non l'abbiamo fatto e dopo partita vera, partita tosta, difficile, anche difficile per noi perché subito il cambio di Sharabi per Nicolò, difficile anche da gestire, però brava gente, cuore grande e nella difficoltà siamo stati squadra, come sempre. Una squadra che ha saputo gestire, soffrire, vincere, qual è la cosa che le è piaciuta di più di questa sera? Mi è piaciuto più i tre punti, mi è piaciuto che abbiamo luttato contro questa tristezza, contro questo senso di ingiustizia, è un Gini che ha una faccia che sorride sempre, è una faccia positiva che è entrato subito nella dinamica di questo gruppo, uno che è venuto qui con una voglia tremenda di stare qui, ogni giorno che passava commentava la felicità di stare qui e adesso Fora per noi è stata dura, per lui ovviamente di più, però per noi come gruppo dura. dopo la partita, 20-25 minuti, dove tu hai il feeling di oggi non è il nostro dia perché tu gioca bene, tu crei delle belle situazioni e non segna. E dopo, in secondo tempo, con tante soluzioni per fare cambi offensivi, abbiamo gestito, abbiamo segnato, abbiamo gestito, abbiamo sofferto e abbiamo vinto contro una squadra che di CRB non ha niente. Un ultimo flash, quanto è importante a livello di autostima avere sei punti dopo due partite? È importante vincere, ovviamente è importante vincere, però partita è partita, adesso dimentichiamo questa e pensiamo alla prossima. Grazie. 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 Grazie.